La crisi ancora morde e i timidi segnali di ripresa di certo non fanno gridare al miracolo. Sul fronte acquisti saldi possono rappresentare una ancora di salvezza per chi è costretto a fare rinunce per far quadrare il bilancio familiare e far fronte a bollette mutui. Saldi che in Molise partiranno il 2 luglio. La notizia è stata diffusa da Confcommercio in qualche negozio, già si vedono i primi ribassi e chi ha adocchiato qualcosa a prezzo pieno adesso spera di trovare il prodotto scontato e comprarlo facendolo affare. Chi vende invece spera di dare uno scossone al commercio. Le associazioni dei consumatori, come consuetudine in questi periodi, hanno diffuso il vademecum per acquisti in sicurezza. Una delle prime accortezze da tenere a presente, evidenziano, è l'esposizione del cartellino. Qualsiasi merce in saldo dovrà averne uno in cui ci sia segnalato il prezzo originario, quello ribassato e lo sconto applicato sul prodotto espresso in percentuale. Un'altra cosa che non tutti sanno è che la merce in svendita può essere cambiata. Il negoziante è obbligato a sostituire il prodotto difettoso e se proprio il cambio non è possibile si ha diritto alla restituzione dei soldi. Non ad un buono. Il cambio degli articoli che si acquistano durante i saldi può essere chiesto entro due mesi e non sette o otto giorni, come spesso viene detto. Insomma, il consiglio è tenere gli occhi aperti e controllare il prodotto, anche se per chi non rispetta le norme le sanzioni sono pesanti e i controlli sono serrati.